Salve, mi chiamo Marco Baroni, ho comprato l'aspirafumi, quello pro, veramente funzionale, ho risolto il problema di qualsiasi tipo di odore e di fumo nella stanza, chi abitava nei dintorni, addirittura di persone, so di persone hanno levato i camionetti proprio perché non c'era verso di far uscire il fumo dalla panna fumaria senza che inondasse la casa o la cucina in questo caso, quindi con l'aspirafumi si risolve assolutamente, garantito al 100%, tra l'altro abbiamo messo qui nascosto in una piccola credenza il motore, mettendolo alla velocità numero 6, quindi vi ripeto che funziona alla grande per quanto riguarda il fumo, già alla minima velocità, a 2 basta e avanza, ma se io metto a 6 addirittura quando dal momento che vengo a pulire la cenere, come potete vedere, spero che si veda, tutta la cenere viene aspirata dall'aspirafumi, non rilascia odore, addirittura riesca a pulire qui con la spazzolina, io spero si possa vedere il fumo che sta salendo, spero che dal video si vede, in modo che la casa rimane più pulita, non ci sono odori e ve lo consiglio a tutti, addirittura come dicevo con la spazzolina io posso buttare la cenere dentro il secchio e la casa rimane assolutamente pulita, mentre per quanto riguarda il motore lo abbiamo applicato come si può vedere nel secondo camignolo, quindi quello dietro, l'abbiamo applicato alla canna fumaria, molto semplice, veramente semplice, uno dal momento che fa l'ordine dice all'azienda, appunto alla Gemmi se ha la canna fumaria tonda o rettangolare, quadrata, io l'avevo tonda, mi hanno mandato l'adattatore, acquisto veramente azzeccato, lo consiglio vivamente perché ho risolto il problema di fumi in casa e di odori, grazie.